Se Salvini si sente solo e non possiamo nemmeno chiedere soluzioni di medio e lungo termine, ironizza, vorrà dire che gli manderemo un peluche. Poi sull'autonomia c'è ancora tanto da fare, dice, vanno studiati meccanismi di solidarietà. Dobbiamo individuare dei meccanismi di solidarietà affinché tutte le regioni che in questo momento non hanno né autonomia né statuti speciali possano essere aiutate. Di Maio rivendica poi quello che il Sole 24 Ore definisce un piccolo miracolo, lo sblocco del 96% dei micro appalti dei comuni. Gli italiani vogliono questo, dice, non pensano alla carola di turno.